Benvenuti a Probably Nothing, le notizie di oggi su IOTA e Shimmer. Io sono Alexander e oggi parliamo dell'EVM Shimmer. Prima di tutto Nakama Labs sta testando a fondo l'EVM Shimmer. Il 23 agosto hanno lanciato un attacco di spam che ha raggiunto i 700 TPS. Ciò rappresenta un possibile costo di 250.000 dollari all'ora per eseguire un tale attacco. Un giorno dopo, presso i Nakama Labs, è stato pubblicato un articolo sul blog di Alejandro Elustondo, senior blockchain engineer. Lee parla del suo viaggio nel mondo del Web3 e del mondo delle criptovalute. ReadWrite, una rivista molto seguita, pubblica un articolo intitolato Cryptocurrency and Blockchain Security, sfide e soluzioni. L'articolo cita IOTA nel contesto di una blockchain pubblica. Per il resto parla dei problemi di sicurezza legati alle criptovalute e alle blockchain come gli attacchi di phishing, sibile e routing, i micropagamenti e il loro impatto sul sistema dei pagamenti. La Banca Centrale Europea, BCE, ha pubblicato un documento intitolato Un grande futuro per i piccoli pagamenti, i micropagamenti e il loro impatto sull'ecosistema dei pagamenti. Il documento fornisce un'analisi delle sfide e delle opportunità dei micropagamenti con particolare attenzione al loro ruolo potenziale nell'economia digitale. Sono state prese in considerazione le discussioni con gli operatori del mercato europeo. Lo IOTA è citato anche al punto 6.3 sulle Distributed Ledger Technologies, DLT. Di particolare interesse è l'uso di Tangle di IOTA, un tipo speciale di DLT. IOTA consente micropagamenti in tempo reale senza commissioni di transazione. Ciò è particolarmente importante nell'internet delle cose IOT, dove le macchine possono comunicare autonomamente tra loro e scambiarsi dati. IOTA potrebbe rappresentare il futuro dei pagamenti M2M e delle applicazioni IOT. Un esempio, cita tu, è la stazione di ricarica El Andenel, lanciata nel Swindings Navi. Naturalmente si tratta solo di speculazioni, ma il fatto che l'ABSE menzioni IOTA è un segnale positivo. Tuttavia, non è una garanzia che verrà mai utilizzato nell'UI. Ricordate ancora il sito di social media Threadscape? Dopo tanto tempo, ci sono di nuovo novità. Non solo è cambiato il look, ma sono state aggiunte nuove funzionalità. Il log di Group V ha stuzzicato la nostra curiosità con l'avvio di un timer di sette giorni che rivelerà informazioni interessanti. Grazie alla funzione Skip, possiamo fare rapidamente il conto alla rovescia di questo timer. Un articolo di Medium descrive tutte le informazioni importanti. L'articolo presenta Group V, un'invenzione innovativa del team di TanglePay, e mostra la loro visione del futuro dei prodotti sociali nel mondo del Web3. Group V è un protocollo sociale di gruppo bassato su token NFT per consentire la comunicazione senza soluzione di continuità tra gruppi diversi, inaugurando una nuova era di interazioni in rete nel Web3. Permette agli utenti di comunicare nelle chat di gruppo senza doversi affidare a piattaforme di terze parti. A questo scopo, le criptovalute e gli NFT vengono utilizzati come chiavi per la creazione dei gruppi. Uno scenario esemplare è la Trollbox, che può essere integrata in vari siti Web. Gli utenti che possiedono gli stessi token e NFT possono chattare negli stessi gruppi indipendentemente dal sito Web in cui si trovano. In questo modo è possibile una comunicazione cross-Web senza soluzione di continuità. Group V si basa sulla tecnologia Shimmer Layer 1.0. È esente da royalty e altamente scalabile. Offre agli sviluppatori la possibilità di creare applicazioni diverse che vanno oltre la semplice comunicazione, come l'acquisto di token e la governance DAO. Lancia anche una quest board su zili.io dove chiunque può partecipare e vincere premi. Poco prima della fine, Group Fai sta finalizzando una partnership con Sun Labs. Questo permetterà di chattare su Suniverse in futuro. Si tratta di un'aggiunta importante per i numerosi progetti e gruppi NFT. Una nuova proposta di sovvenzione del Tesoro, versione 2, è stata pubblicata su govern.jota.org. Finora hanno votato 70 persone, ma il risultato non è ancora rappresentativo, poiché sono state chiamate diverse migliaia di utenti. Ho intenzione di produrre un video autonomo su questo argomento, il cui link sarà come sempre nelle fonti. Il 13 settembre si terrà a Berlino la Battle of the Blockchains, presentata da CV Labs, Space.5 e Berlin Partner. Ci si aspetta di vedere progetti e i loro punti di forza, USP, come Cosmos, Iota, Shimmer, Lisk e Luxo, che i giochi abbiano inizio. C'è un cambiamento significativo in Tangle C, che ora è guidata da Blue Labs. Hanno pubblicato un articolo su Medium a questo proposito, spiegando le loro motivazioni. I Blue Labs hanno una vasta conoscenza tecnica in aree come lo sviluppo front-end, l'hosting dell'infrastruttura e lo sviluppo di contratti intelligenti, oltre a competenze commerciali versatili che comprendono l'economia dei token, lo sviluppo del business, il social media marketing e la gestione della comunità. Blue Labs migliorerà i suoi protocolli, i suoi partner e costruirà comunità con particolare attenzione a Iota e Shimmer. Il 6 settembre è stato pubblicato un altro articolo con informazioni più dettagliate. I protocolli attivi sono tre, Shimmer Sedix è uno di quelli che conosciamo da tempo. Se poi un mercato NFT su Shimmer Sedix ci ha già stato l'ansiatore e infine su Appline Undex multicatena rivolto ai fornitori di liquidità. DeFi Esperty, che è già attivo su cinque catene, offre un'ampia gamma di funzionalità, tra cui liquidità concentrata, commissioni dinamiche native ed esecuzione di strategie di trading. Su Appline si rivolge a pool contenenti principalmente monete stabili e token blue chip, come Phantom, Arbitrum, Optimism, Polygon, ZCAM e base, ed è utilizzabile anche su Shimmer IVM. È da un po' che non abbiamo notizie di Zebra. Dal 13 al 15 settembre si terrà a Madrid, in Spagna, la Zebra Devcon 2023. José Manuel Cantera rappresenterà Iota in un intervento e parlerà di decentralizzazione e ID digitali. Su Discord, Iota Poet ha chiesto a Doms e gli Emirati sono interessati ad acquistare Iota e o Shimmer. Dem ha risposto sono interessati al nostro impegno verso il paese e a come possiamo aggiungere valore e contribuire al successo del paese. Stiamo arrivando negli Emirati con Iota e con Shimmer. Kowei vortica di nuovo. L'evento collaterale di Token 2049 a Singapore, Web3, è sponsorizzato da Iota, Shimmer. Tra gli altri, l'evento è organizzato da altri tre progetti, provenienti da Taiwan, Hong Kong e Malesia. Shimmer sta facendo progressi significativi ed è prossimo al completamento. Anche l'account ufficiale di Shimmer lo conferma. Con 212 mila transazioni al giorno e un picco di 1,4 milioni di transazioni in un mese, questo è solo l'inizio. Dave ha fornito un aggiornamento sullo stato di sviluppo. La maggior parte delle preoccupazioni sono state affrontate in collaborazione con i progetti e la maggior parte delle parti interessate è soddisfatta dello stato attuale. Attualmente stiamo effettuando gli ultimi aggiustamenti e test prima di un lancio chiuso di Shimmeri VM nel prossimo futuro. Il lancio pubblico seguirà tra qualche settimana. Dopodiché il nostro team compirà i passi successivi per valutare la programmabilità del Layer 2, mentre continueremo a monitorare e migliorare ISC e la catena Shimmer IVM. Coin Bureau, con oltre 815 mila follower su X, ha pubblicato un video su YouTube con 2,32 milioni di abbonati. IOTA è anche tra le top performing cryptos. La buona performance è apparentemente basata sui nuovi wiki di IOTA. Almeno questa è l'opinione del progetto di Il progetto ha ricevuto la visita del ministro dei trasporti del Baden-Württemberg e di un politico statale del Partito dei Verdi che lo hanno messo sotto osservazione. Infine ci sono novità per quanto riguarda l'annosa truffa di iotaseed.io. Grazie alle autorità tutte le parti lese saranno risarcite. Il rimborso di 11,4 milioni di dollari è un risultato notevole. Quanti progetti possono vantare una simile città?